Avevo promesso che avrei ricordato Franco Battiato. Allora, la prima volta che ho conosciuto Franco Battiato è stato in un'intervista a metà degli anni Ottanta. Io facevo bibo a Palula e lui l'ho intervistata e prima facciamo una conferenza stampa, dopodiché io ebbi l'occasione di fare l'intervista con lui. No, non è esatto. Partiamo da prima. La prima volta che mi sono occupato di Franco Battiato è stato un giorno che ho visto un suo concerto. Lui era sull'onda del grande boom che stava avendo la voce del padrone, però era distaccato. E io scrissi un articolo di recensione sul resto del Carlino e dissi che lui in quel momento non era presente, non si stava dando al pubblico, non si concedeva. E che se lui non provava il gusto di concedersi, non doveva fare concerti. Mi chiamò Michele Di Lerni, il suo discografico, e mi disse che cazzo scrivi? Io ho detto perché, scusa. Perché era il periodo in cui non potevi criticare nessuno. Pensate che a Discoring, quando diceva la classifica, tu potevi dire è salito, stabile, ma non potevi dire è sceso. La parola sceso non esisteva. Tutto era un successo. A Discoring ho visto un artista il cui tour era stato cancellato perché faceva due spettatori a data, dicendo riduce dal successo del tuo grande tour. E lui annuiva. Era il periodo in cui tutto doveva andare bene. E quindi io che scrivevo criticando, lo vedevano come una critica, questo fatto. E invece la mia era una considerazione. E questo Michele Di Lerni mi disse, ma che scrivi? E ho detto, scusa, perché non è vero? Ah, se è vero, verissimo. Ah, ho preso l'articolo tuo, ho fatto leggere, ha battiato. Ah, vedi che si vede che tu non ti frega un cazzo del pubblico. Ti deve fregare del pubblico. E lui che ha detto, si è messo a ride. Ha detto, hai ragione. Eh, ho capito. E quindi se c'ha ragione, perché non pica. Sì, tu c'hai ragione, ma non si scrivono queste cose. Ecco, quello è stato il primo contatto con Franco Battiato. Dopodiché ho avuto un'intervista a metà degli anni Ottanta. Un'intervista che molti pubblicano abusivamente su YouTube. Puntualmente viene cancellata, perché se la volete la trovate su redrone.tv. E in questa intervista a Franco Battiato, lui a un certo punto, cominciamo a... Mi ricordo che io insistevo con le domande. Attenzione, a metà degli anni Ottanta io non avevo ancora capito un sacco di cose. Era come un blocco di marmo da cui dovevi tirare fuori, togliere il super, dovevi tirare fuori la statua. Però c'era chi aveva individuato che ero così. E di fatto poi mi ha aiutato a fare questo. Poi c'ho sempre delle persone che mi aiutano. In questo caso anche Marco Varotto che mi ha dato l'idea per la puntata di stasera. Comunque. Quindi cosa succede? Succede che io l'ho intervisto. E a un certo punto dentro di me c'era una curiosità. Perché capivo che lui era totalmente diverso. Che non c'entrava nulla quella... Cioè sì, con cura, però... E lui a un certo punto mi guardava e mi disse Ok, come vedi? Perché io insistevo con le domande, no? E lui mi disse c'è gente in questo mondo che sta facendo tanto anche se non si vede, eccetera, eccetera. Perché lui dice ok, mi ha incastrato, vado avanti. Perché lui aveva proprio un preconcetto nei confronti di tutto il mondo del business. Soprattutto in quel periodo che aveva un grande successo. E poi a un certo punto dice ad esempio i monaci di Monte Athos. E io gli ho detto cos'è Monte Athos? E lui? È un convento nella Cirenaica. E io, dov'è la Cirenaica? È lui in Grecia. Sai dove è la Grecia? Sì. Ecco. E poi siamo andati avanti. Alla fine mi ha detto. Sai, dice, tu sei diverso dagli altri. Dico perché? Io uso il Monte Athos come test. E quando dico i monaci del Monte Athos, tutti i giolisti ti fanno. Ma nessuno lo sa. Tu sei l'unico che hai dimostrato di non sapere. Tu sei l'unico sincero che parte che mi hai fatto delle cose. Dici, ma sei stato sincero. E da quel momento, diciamo, è iniziata una frequentazione. Sono andato giù quando i De Novo, mi aveva chiamato lui, mi aveva detto, guarda che è batteato. Ti aspetta, casa sua, perché vuol parlare di De Novo. E io sono partito, sono andato a Milo, a casa sua. E abbiamo fatto questo. Quando ero lì, pensate come sono le cose, no? Quando ero lì, mi chiama Rosanna Mani di TV Soleci Canzoni. Ronny, ma so che sei da batteato. Dico, sì, Rosanna, perché se ti faccio un favore, fagli delle foto, che lui rifiuta di fare foto con tutti. Gli abbiamo chiesto, potremmo mandargli tutti i fotografi. Lui non è, prova a fargli delle foto. Ok, io dico, scusa un attimo. Franco, mi dicono che TV Soleci Canzoni, che ha bisogno di foto, ti posso fotografare? E lui mi dice, sì, puoi fare le foto che vuoi. Ha detto che gli posso fare le foto che vuoi. Grazie, Ronny, mi raccomando. E di fatti è stato pubblicato un servizio con le foto che gli feci in quell'occasione. Questi sono un'annedota. Poi tornai, abbiamo giocato. Mi chiamò una sera che dovevo andare perché c'era una ragazzina. Anzi, le devo anche mandare le foto, da qualche parte ce l'ho. Credo si chiamasse Stefania, che faceva la festa di laurea. E lui mi dice, guarda, c'è una mia amica, esatto, Stefania Patti, c'è una mia amica che fa la festa di laurea. Puoi venire alla sua festa che ti vorrebbero? E io sì, sono perdisondato. E lì ho passato una bella serata con Franco, anche abbiamo giocato a biliardo con Luca Madonia. Ci ha dato una paga tremenda di mortale. Era bravissimo a giocare a biliardo, eccetera. Dopodiché, diciamo, veniamo alla fine. Veniamo alla fine, lui mi ha chiesto di andare a Milo, di fare questo omaggio nel teatro di Milo, a Lucio Dalla. Lucio aveva la casa vicina alla sua. Io gli ho detto, sì, ho una condizione che io prima vengo da te e tu fai con me una bella conversazione a casa tua. Cosa che è successo? Poi l'anno dopo mi ha richiesto di andare di nuovo a fare, Fabrizio Dalla, sempre in quel teatro. Io ho detto, condizione sempre quella, altre interviste. E ho fatto l'altra intervista. E ho due interviste che sono meravigliose. Però, per dire, io vorrei, stasera, ho scoperto che era il 29 agosto 2018 ed erano le 17.53. Ho tenuto l'appunto scritto sul mio note e c'ho gli appunti dell'intervista a Battiato. Non è che io prenda molti appunti, io non prendo mai appunti. In quell'occasione ho preso degli appunti perché? Perché volevo citargli testi delle sue canzoni, perché lui mi li raccontasse. Allora, abbiamo parlato di questo testo, siamo esseri immortali cadute nelle tenebre. I primi due testi che ho messo, guarda caso, sono questi, siamo esseri mortali caduti nelle tenebre. Poi lui continuava, a me bastava questo, tanto lo sapevo memoria, senza più memoria, destinati a errare nei secoli dei secoli fino a completa guarigione. E lui ha confermato questo. E lui mi ha anche aggiunto che, ad esempio, i bambini hanno dei buchi di memoria. Ci hanno ancora dei buchi di memoria. Tant'è vero che dice stupidamente i genitori, i grandi, trattano i bambini come degli scemi. Picci, 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 buu, 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 buu. E loro magari vedono questo qui e dicono, picci, picci, e loro hanno dentro ancora la memoria del passato e pensano, ma dove sono finito, porca puttana. E mi ha detto che lui aveva dei dialoghi, a volte con dei bambini telepatici. Ad esempio diceva che, anche una volta diceva, di recente mi è successo quando sono arrivato in aeroporto, che sono uscito dall'aereo, sono andato sul bus che ci porta, c'era una mamma che aveva in mano un bambino. E lui mi guardava, io lo guardavo attentamente, questo bambino era piccolo, ma ci siamo scambiati tante informazioni. Aveva gli occhi da grande, da anima grande. Secondo testo che gli ho citato è, sto ancora cercando le ali per abbandonare il pianeta. E lì gli ho detto, guarda che tu devi chiedere il permesso a noi, non puoi abbandonarlo così, eh? Cioè, e lui gli si è messo molto a ridere. Poi c'è, Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione, questa è una cosa che io gli volevo chiedere. Questo me l'aveva detto George Harrison, e io gli volevo chiedere questa cosa. E infatti lui dice, sicuramente, certo che parla di reincarnazione. La reincarnazione, Cristo stesso ne rinasce, è reincarnazione. Nelle sacre simboliche siamo angeli mortali caduti nelle tenebre, siamo angeli caduti nella terra dall'eterno, senza più memoria. Questo poi. Vivo come un camello in una grondaglia in questa illustre e onorata società. Ancora sto aspettando il paio di ali, di acquistare il paio di ali per abbandonare il pianeta. E cosa devono vedere ancora gli occhi e sopportare i demoni fenoci della guerra che fingono di pregare. E lui qui ha fatto un'analisi anche politica dicendo che si... Cioè, com'è possibile che il mondo sia governato da elementi del sottosuolo? Poi in vita parallele dice, credo nella reincarnazione, in quel lungo percorso che fa vivere vite in quantità. Testamento. Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione. Non siamo mai morti, non siamo mai nati. Perché siamo eterni. Nella continuità dell'eternità non ci sono interruzioni. Ci sono cambiamenti. Quindi la vita è una fase, poi c'è l'altra fase. La fine della vita è un'altra fase, un cambiamento. Poi si ritorna. Le onde. Le frequenze hanno onde. Un irresistibile richiamo. Dice, era magnifico quel tempo, come era bello, quando eravamo collegati perfettamente al luogo e alle persone che avevamo scelto prima di nascere. Le persone che avevamo scelto prima di nascere. Quindi noi scegliamo le persone prima di nascere. E lui me l'ha confermato. Noi sappiamo. Per questo che diventa importante fare pace con i propri genitori. Per quante cose brutte tu pensi possono averti fatto. Tu hai scelto di nascere da loro. Magari perché hai dei karma da vita precedenti, da risolvere. Magari nella vita precedente tu eri il padre e loro erano i figli. Magari nelle vite precedenti eri fratello, eri sorella o eri solo amico. Magari nella vita precedente tu hai fatto loro delle cose brutte che ti meriti che loro ti facciano in questa vita per imparare. Che ne sai. Per questo avere dei dissidi con i propri genitori è stupido. Anche perché se non risolvi tutto, se non arrivi ad amare i tuoi genitori, non potrai amare nessun altro. E se pensi che i tuoi genitori non ti abbiano amato, tu non potrai essere amato da nessun altro. È il karma. È il karma. Perché chi subisce delle violenze da piccolo è portato a subire altre violenze. Perché le ragazze che hanno un padre violento e non lo perdonano, rinnovano il tutto con l'uomo che si trovano che le picchia. Perché rigenerano. Perché quello è il loro. Per quello devi chiudere col passato, con le cose brutte del passato, capendole e perdonandole. I tuoi genitori che vita hanno fatto? Perché? Hanno fatto una vita pessima. Ma questo l'ho analizzato anch'io. Anch'io non ero scevro o immune da questo ragionamento. Eri con me. Siamo detriti, reliti umani, trascinati da un fiume in piena, che non conosce soste né destinazioni. La nostra mente e le nostre azioni sono la causa, gli effetti invece, il nostro destino. ciò che deve accadere accadrà, qualunque cosa facciamo per evitarlo. Ciò che deve accadere accadrà, perché è già accaduto. arriverà il giorno atteso a schiudere gli impediti passaggi. prepariamoci a nuove esistenze. È quello che stiamo affrontando adesso. Stiamo andando verso nuove esistenze. Stiamo andando verso un cambiamento epocale di questo mondo. Stiamo andando verso qualcosa che non possiamo neanche immaginare come sarà. prepariamoci, prepariamoci a queste nuove esistenze. Lui l'aveva già visto. Perché? Perché ciò che deve accadere accadrà, perché è già accaduto. Questo è il karma, la ripetizione delle cose. Perlomeno io la leggo così, ma lui me la raccontava poi così. Quindi siamo come ritrasinati a un fiume in piena. Noi non possiamo cambiare il corso del fiume. Possiamo cambiare solo noi stessi. Noi non possiamo cambiare l'impetosità del fiume. Perché noi abbiamo accettato di andare dentro quel fiume. Noi siamo in quel fiume. Perché ci spetta essere in quel fiume. Perché le nostre azioni di passate vite ci hanno portato in quel fiume. In quell'impetuoso fiume. Perché ciò che accade è già accaduto. Perché noi ripetiamo le cose, come il film, ricomincio da capo, no? Ripetiamo nello stesso giorno fin quando non capiamo. E allora andiamo dall'altra parte. In Passacaglia lui cantava Vorrei tornare indietro per rivedere il passato, Per comprendere meglio quello che abbiamo perduto. Viviamo in un mondo orribile. Viviamo in cerca di un'esistenza. Vorrei tornare indietro nella mia casa d'origine, Dove vivevo prima di arrivare sulla Terra. Qui il desiderio. Il desiderio di tornare, Di acquistare il paio di ali, Per abbandonare questo pianeta e andare alla sua casa, Dove viveva prima, Di venire qui, sulla Terra. E questo lo vogliamo tutti noi, Non lo vuole solo Battiato. Battiato è riuscito a scriverlo bene, Ma tutti noi desideriamo quello. In fondo tutti noi desideriamo di andare nell'altra dimensione. Inconscientemente lo desideriamo. Anche quelli che sono agnostici, Anche quelli che dicono Io non credo in niente, Anche quelli che dicono Viviamo, C'è una sola vita da vivere, Godiamocela. Ecco, tutte queste stronzate. Anche loro dentro lo sanno. Che non è vero. Per quello stanno male. Per quello sono tristi. Per quello fanno tutto quanto è sbagliato. Come desiderare potere, Desiderare soldi, Desiderare cose, Perché sono disperati. E accumulano perché sono disperati. Do you know the seekers of the truth? Ci crediamo liberi, Ma siamo prigionieri di case invadenti Che ci abitano e ci rendono impotenti. Di case invadenti che ci abitano. Quindi noi non abitiamo nelle case, Le case abitano in noi. Ci crediamo liberi, Ma siamo schiavi. Milioni di milioni di ombre sperdute, Rumorosi, Andiamo per le strade Alzando solo la polvere. Ho voglia di appartarmi E di seguire la mia sorte. Perché morire è come un sogno. Ecco, Ancora questo desiderio Di andare dall'altra parte. È come un soldato Che ha una missione, Che sta portando avanti. Ma ha desiderio di tornare a casa. Però porta avanti la sua missione. L'ha accettata. L'ha accettata prima di partire. Ma questo non gli impedisce Il desiderio di tornare a casa. Questo è il desiderio di tornare a casa. Kaliji Yuku. Do you see the dramatic escalation of violence? Lo vedi l'aumento di violenza? The world outside is insane. It's full of evils. Il mondo fuori è matto. È pieno di diavoli. Without wasting time we take refuge. Senza perdere tempo dobbiamo prenderci un rifugio. In the empty essence. Nell'essenza vuota. Lo vedo in dramaticulare. Il mondo fuori è insano. È pieno di malvagli. Senza perdere tempo rifugiamoci nella vuota essenza. Empty vuol dire libera, pulita, vuota. Il serpente. Il dio denaro striscia come il serpente nelle città d'Occidente. Così si celebra. Ma da qualche parte un uomo nuovo sta nascendo. Ecco. Un uomo nuovo sta nascendo, dice Franco. Un uomo nuovo. E l'uomo nuovo è nato. L'uomo nuovo è qui. L'uomo nuovo sta nascendo in questo periodo. In questo periodo assurdo sta nascendo un uomo nuovo. Oggi ho incontrato Petra Magoni che verrà lunedì al Barone Rosso. E gli dice, vedi, quello che è successo. Prima io facevo concerti, ero sempre in giro. Ero distratta dai concerti. In questo periodo in cui sono stato costretto a rimanere in casa. Ho studiato. Ho meditato. Ho letto tante cose. Ho capito tante cose. Le cose positive nascono sempre da grandi fatti negativi. E questo fatto negativo che ci hanno creato, che ci hanno provocato, loro non lo sanno che ci ha fatto un gran bene. Non lo sanno. Ma a noi ci ha fatto un gran bene. Perché in questo fatto negativo, in questo momento siamo in 2000 e passa qui. a vedo adesso, non sarebbe successo. Quindi, prima è successo per necessità che ci vedevamo il sabato sera. non si poteva uscire. Adesso si può uscire di sabato sera. Lo facciamo per scelta. Prima per necessità. Ora lo scegliamo. scegliamo un nuovo mondo. Scegliamo una nuova vita. Un mondo nuovo sta arrivando. Ci sono dei cambiamenti incredibili che non vi potete neanche immaginare. che non sono quello che vi fanno credere. Che sono molto diversi. Sta succedendo qualcosa di incredibile. Per far questo, ci sono alcuni procedimenti da svolgere. Tutto non è così gratuito. Bisogna fare un piccolo sforzo. Primo, disintossicarsi dai mezzi di informazione. Spegniere la televisione. Spegniere la radio. Leggere solo fra le righe. Nel bianco, fra le righe. E scrivere tu la tua storia. Creare gruppi di amici tra cui vi scambiate le verità di cui venite in possesso. questo a livello di comunicazione. A livello fisico una cosa essenziale smettere di nutrirsi della sofferenza di animali. perché se noi ingeriamo sofferenza quella è dentro di noi e siamo predisposti alla sofferenza non alla soluzione. Siamo predisposti a farsi contagiare da parole come paura perché abbiamo la paura dentro di noi. quando io ho smesso di mangiare carne e poi dopo anche pesce e poi per un fatto l'ho raccontato c'è un video molto bello dove lo racconto lo sto notando adesso io ho smesso di avere paura perché? perché l'animale quando sta per essere macellato perché quella purtroppo deve usare parole brutte sa questo sente l'odore del sangue degli altri sente le urla degli altri sente la sofferenza degli altri e accumula paura che scarica come acido urico nella carne. Quando noi dopo prendiamo una bistecca beh, la cuociamo ingurgitiamo la paura di quell'essere per quello avendo la paura dentro appena uno ce la risveglia wow meno male c'è paura eh questa roba qui ah sì ah non si può mica più far l'amore ce l'hai di esse ah no 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 ah no 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 e ci fermiamo qui la paura veniamo tenuti involuti con la paura quindi smettere di mangiare carne significa disintossicarsi dal veleno che abbiamo dentro questi sono i passaggi da fare un passaggio a livello di comunicazione spegnere la tv chiaramente non tutta la tv che ne so io la tv guardo ad esempio che ne so il MotoGP anche la tv c'è tutta da buttare ma tutto il resto via non leggere i giornali tanto sono sempre le stesse cose scegliere le proprie informazioni ci sono canali telegram bellissimi che danno informazioni scambiarsi le informazioni vere mandare agli amici ad esempio guarda stasera invece di andare anche a fare un aperitivo dove ti sbagli un po' con le birre eccetera queste robe qui perché non te ne stai a casa ti guardi l'hai dispensato nei night together e così magari ti ecco ecco e questo è questo in queste parole di Franco Pattiato pensate che io allora dovete sapere che le note le note che ci sono sul telefonino io quando faccio qualcosa prendo delle note ok quando quella cosa è stata fatta cancello la nota dopo l'intervista a Franco io stavo per cancellare la nota mi era servita no mi era già servita l'avevo fatto l'intervista a Franco invece ho fermato e ho detto no no non la cancello questa nota perché perché ho pensato un giorno mi servirà questa ricerca che ho fatto sulle canzoni di Franco e addirittura ho messo la data e l'ora 17.15 l'ora in cui e quindi e quindi queste ed è una non ce ne sono tante altre di note cioè ne ho di note ma quando sono finite le cancello quella non l'ho cancellata perché sapevo se tu smetti di mangiare carne sei più predisposto a vedere lontano a sentire le cose ad avere le percezioni sono dei giorni che mi sveglio e non sto bene e dopo succede qualcosa cosa che non è bello però io già dalla mattina sento che non sto bene questo ti accade solo se sei pulito se ti pulisci dentro al di là del fatto fisico che alzi le difese immunitarie e te virus batteri ti fanno una pippa ok questo è importante e fregarsi degli elicotteri che girano sulle nostre teste per controllarci non è perché prima ho visto l'elicottero né le immagini ok grazie Franco Battiato grazie Franco sei sempre tra di noi perché ci sono tutte le tue canzoni basta ascoltarle basta chiudere gli occhi ed ascoltare ma soprattutto mettere in pratica e per mettere in pratica bisogna pulirsi dentro per pulire fuori